connessione buona buongiorno casa nuova 88 buongiorno cristina oggi non c'è nessuno non è vero ci siete voi buongiorno maria buongiorno gianni pietro allora se vi va di parlare di cani se avete qualche domanda riguardo ai vostri animali cani animali cani sono quelli conosco bene ma solo quelli questa mattina sono andata al lago a fare lezione con una cliente è stato divertentissimo shiba educazione allora shiba gli adoro ne ho tre al campo in questo momento tutti e tre con una personalità molto importante carini in realtà abbastanza abbastanza carini educazione in realtà per me è alla base di qualunque razza barra cane sull'addestramento lo shiba richiede richiede tecnica perché non sono i cani più facilmente addestrabili del mondo non che abbiano dei problemi e che banalmente fanno solo quello che hanno voglia quindi però li adoro poi sono molto belli buongiorno ikka ikka intrecci lab ikka intrecci lab fai cose di laboratori e maria hai chiesto dello shiba perché possiedi uno shiba o pensi di prendere uno shiba gli shiba non sono semplicemente degli akita in miniatura come intanto si si pensa sono molto differenti almeno gli akita che ho avuto io al campo non avevano niente a che fare con con gli shiba brecco italiano che non va a caccia come impostare un buon richiamo non va a caccia perché non gli piace non va a caccia perché non è in mano a un cacciatore perché se non va a caccia perché a voi non piace andare a caccia ma lui ha un altissima propensione bisogna tenerne conto per quando gli insegnate un richiamo banalmente sentirà piuma selvatico xy questo prende e parte cioè rischia proprio di andare a caccia in autonomia comunque io lavoro tanto su questo su rapporto iniziare da cose semplici quindi vado dove spero di non avere troppi stimoli che mi giocano contro quindi io non vado in un parcheggio a fare un richiamo per hobby che corre dietro le auto vado in un prato con un bracco potrei fare la valutazione opposta vado in un posteggio ovviamente recintato chiuso e inizio ad impostare lì il richiamo perché lo stimolo che potrebbe giocarmi contro quindi l'odore di selvatico difficilmente lo troverò mi è capitato ho fatto un video a 50 metri dal mio campo cervi in pieno giorno lì che ci guardavano così infatti per fortuna il cane della cliente non li ha notati però l'idea è partite dalle competenze che ha già il cane quindi se il tuo bracco non va a caccia perché non è tra virgolette molto portato quindi a un basso predatorio ovunque con richiami sempre più difficoltosi difficili con piccole distrazioni più distanze e così via se non va a caccia perché voi non siete cacciatori ma lui è bravissimo zona urbana buongiorno il fe felice pomeriggio anche a te con il paracord che cos'è il paracord il mio cucciolo di quasi sei mesi non esce con nessun altro se non con me consigli perché non esce con altri se non con te perché si sente insicuro potresti uscire tu insieme ad altre persone e man mano allontanarti e poi avvicinarti poi allontanarti fino a lasciare il cucciolo in mano ad altri però se non si sente sereno con altri che con te c'è qualche cosa che non va nella vostra relazione cioè non è una relazione sana io devo potermi sentir bene con chiunque quindi proverei a chiedere consiglio a un istruttore per ricalibrare un pochettino questa cosa lara scrive il mio cane a volte si rotola nella cacca perché perché secondo me gli piace un sacco beh la guerra contro la merda ragazzi è una guerra veramente durissima nel senso che ogni cane ha la sua ci sono cani tipo i retriever golden soprattutto più che più che labrador che adorano rotolarsi proprio in robe super puzzolenti e non c'è tantissimo da fare se non sperare di non beccarne una ogni singolo giorno io non e non nego questo tipo di di comportamento perché comunque fa parte del loro etogramma quindi l'etogramma è un po come il manuale d'uso del cane ecco l'indice con tutto quello che loro sono in grado di fare questo è compreso faschi ferrimo niente da dire soprattutto poi per chi come noi tiene i cani anche in casa però negarglielo sempre no quello che si può tentare di fare è aguzzare la vista proprio guardare un po più avanti quindi se vedi qualcosa che sospetto spostati in modo che non devi neanche correggere il cane sostanzialmente il cane non l'ha ancora visto e tu hai gestito il problema prima ancora di averlo però non credo che sia tanto fattibile tutta la vita riuscire a negargli questa cosa perché anche i super coercitivi quelli che urlano e fanno appena il cane è un pochettino più distante fuori controllo vanno e si rotolano come non esistessero domani anzi poi si creano anche problemi di richiamo e tutto quello che ne consegue quindi Lara cerca di andare nei posti più tra virgolette puliti che puoi cristina scrive una cagnolina da 45 anni adottata da piccole spaventata da tutte e da tutti come puoi fare se da tutta la vita che così potevi partire prima perché un cane ha cinque anni difficilmente cambia modalità di vista sul mondo anche perché se voi involontariamente l'avete rinforzata in questo quindi le avete consolidato questa sua questo suo modo di di vedere il mondo è in un in un'età adulta sì è sempre fattibile mai dire mai però la vedo la vedo dura soprattutto da soli nel senso che non è chiedendo un consiglio online che sono in grado di darti un'indicazione anche perché magari la cagnolina è proprio fobica di suo indipendentemente da quello che voi fate la sua risposta non cambia a quel punto si passa la gestione ma la gestione tecnica e per imparare la tecnica io devo avere davanti l'individuo perché un consiglio che può andare bene per una persona con lo stesso tra virgolette tipo di cane magari non va bene per te perché il tuo ambiente è differente perché il tuo cane risponde in modo differente perché ci sono dinamiche differenti quindi questa è una domanda complessa anche dal vivo online chi ti risponde non ha idea di quello che sta dicendo quindi attenzione so che quando cercate aiuto lo cercate ovviamente ovunque però però ci sono cose che online non sono proprio fattibili le rifiuto anche come consulenza cioè io su alcune cose se non vedo il cane non mi non mi spingo molto più in là del del buon consiglio però spaventata da tutto non non ho un buon consiglio allora a rolli scrive come lavorare sull'andare d'accordo con gli estrani con un cane di 15 mesi prendendoli a gomitate in faccia è difficile le persone hanno pochissima cultura cinofila soprattutto in italia tutti tendono a fiondarsi addosso a voi soprattutto le mamme coi bambini sono sono veramente terribili io ho delle piccole strategie quindi quando ho un cane di media taglia in su consiglio ai proprietari di comprare una museruola cestino e metterla attaccata al marsupio dove tengono i sacchettini le chiavi il cellulare e esibirla per bene perché è una persona in italia che va in giro con la museruola è probabile che il cane morda e ovviamente alla domanda posso avvicinarmi no banalmente indico la museruola della serie fa un po te no questo coi cani di una certa taglia quindi dai 10 15 kg in su funziona però con i cani più piccoli no soprattutto se sono cuccioli io a tutte le persone che hanno cuccioli che arrivo al campo gli faccio vedere io come come reagisco e non sono sempre molto molto educata però una certa io devo tutelare il cane e quindi quindi divento estremamente assertivo il mio obiettivo non è andare d'accordo con l'estraneo ma è proteggere il cucciolo da proteggere il cane quindi come tale mi comporto quello è il mio obiettivo ci sono però molte più persone che chiedono posso avvicinarmi posso fino a qualche anno fa ti si fiondavano banalmente addosso come se tutti debbano avere il diritto di toccare chiunque cercate di non litigare proprio con tutti le persone che incontrate spesso per strada non ditegli di no non ditegli non mettergli la mano sulla testa perché altrimenti sono già partiti con la mano sulla testa provate a dare indicazioni positive ad esempio guarda gli piacciono un sacco i grattini sulla coda anche se non è vero avete fatto in modo che la persona si avvicina non frontalmente al cane perché sta andando verso la sua coda quindi già fa un giro e vi piace anche il cane e se si abbassa per fargli un grattino sulla coda avete tutelato la zona della testa che tipicamente viene schiacciata da da chiunque però io il modo carino per allontanare un estraneo non l'ho trovato io fosse per me uscirei con un zucca quindi non sono tanto molto positive sui cani ma sull'umano ho un po perso la pazienza danni scrive con gli altri esci arriva al cancello e si siede non si muove più e dovresti potresti fare tu da bridge quindi da ponte ti avvicini con lei uscite insieme poi come ti dicevo ti allontani poi rientri poi però c'è qualcosa che non va un cane non può pensare che il mondo continui a girare solo se c'è una singola persona accanto a lei capisco che possa essere molto rinforzante questo perché insomma vuol dire che c'è un rapporto particolare però i rapporti sani non sono più equilibrati non non si vedono queste differenze margherita scriva uno shiba coccolone ma non mi fido a lasciarlo senza guinzaglio fai bene soprattutto in determinate zone e se non hai un buon richiamo io non mi fido lasciare hobby senza guinzaglio è il cane più buono del mondo il rischio più grande che ho e che vada a leccare qualcuno però non no non si può anche perché lui vede le auto che si lancia sotto stella arriva il 24 arriva al mio sam ma remano sei mesi in casa propria paura episodi di ringue morso persone anche familiari ma remano che ha sei mesi ha già timbrato qualcuno io proverei a chiedere aiuto è molto tipico nei maremani uno dei maremani che mi hanno insegnato di più nella vita si chiamava maira io avevo quando l'ho conosciuto a tipo otto anni cani molto intenso un vero maremano verissimo e ricordo che noi bambini quando il maremano è arrivato in fattoria siamo andati a conoscere il cucciolo era grande così ha sparato un ringhio me lo ricordo ancora oggi e noi bambini abbiamo detto che abbiamo capito per bene abbiamo fatto un giro molto molto largo e ma era nei 16 quasi 17 anni di vita in cui è campata ne ha timbrato qualcuno ne ha ha fatto qualche errore di valutazione i tempi sono cambiati ma remani di oggi sono più socievoli e sociali di quelli di un tempo però se il tuo ha così è così in difficoltà dall arrivare ad andare in avanti a quest'età io chiederei aiuto a un istruttore anche perché tenete conto che i cuccioli sono un po la punta dell'iceberg dell'adulto e non è detto che inibire un comportamento oggi lo modifichi vuol dire averlo inibito vuol dire averlo chiuso in una scatola in cui non c'è la valvola di sicurezza e ogni tanto fanno l'effetto pressione boom e se un maremano adulto fa boom qualcuno si fa del male e comunque al di là del rischio verso la persona il cane in sé vive male quindi se puoi Michela cerca qualcuno che ti aiuti a fargli un po così abbassare i toni e trovare punti di equilibrio differenti cioè come posso gestire questa cosa che mi fa paura non sei tenuto sempre ad andare in avanti puoi anche andare indietro abbaiando funziona io ho fatto il mio il mio lavoro di guardiano e non ho ridotto la distanza un lavorador di due mesi terra informata sui progressi con i tasti bene io tra l'altro oggi sono stata alla copp io non vado mai alla copp perché non è vicina e ho scoperto che hanno in vendita dei pupazzi per cani ve li faccio vedere eccoli qua costano 3 euro e 20 e sono della della copp e li spacciano per per animali in tutta onestà io lo regalerei anche un bambino poi magari il l'interno non è a norma vatte la pesca non lo so comunque ecco questo è il prossimo gioco a cui così che presenterò ad obi per per dargli un nome se avete in mente qualche nome da dargli perché io a 50 oggetti inizio a scarseggiare un pochettino con la fantasia dai se a qualcuno viene in mente come chiamare questo coso che sembra un cane grigio con i sopracciglioni siete siete benvenuti poi vi farò il video di di obi che riconosce l'ennesimo giochino allora il mio cane se lo lascio a casa i primi minuti piange a baia poi sta per ore tranquillo è un problema in realtà no il fatto che un cane è lasciato solo da pochi minuti così manifesti il proprio dissenso ci sta non fa volevo venire anch'io il fatto che poi si calmi si tranquillizzi vuol dire che ha un suo punto di equilibrio e una certa se ne fa in tutta onestà anche una ragione il problema è quando fanno il contrario quando stanno calmi tranquilli i primi 5 10 minuti e poi per il resto della giornata a ululano abbaiano uggiolano continuano a mettersi in movimento si mettono giù poi si alzano si spostano mettono giù si alzano si spostano iniziano a rosecchiare distruggere e via salendo quindi no non è non è un problema ovviamente meno li lasciamo soli meglio è anche se devono imparare a stare da soli organizzo proprio delle sessioni in cui lascio solo obi perché per mio lavoro posso effettivamente averlo con me 24 ore su 24 ma non va bene e quindi io faccio in modo di lasciarlo da solo a casa in ufficio al campo apposta perché si deve abituare d'inverno uso anche la macchina d'estate no perché fa troppo caldo come lavorare sull'andare d'accordo con gli estrani con un cane di 15 mesi? eh te l'ho detto se trovi il modo ma poi perché andare d'accordo con un estraneo? no no sono estranei cioè io non so quanti amici abbiate voi io ho 4 5 6 amici e poi ho un'infinità di conoscenti il mio cane lo gestisco nello stesso modo ha 4 5 cani amici e poi ha una quantità di conoscenti però non è detto che debba interagire necessariamente con tutti i cani del mondo ieri sera eravamo ad un ristorante c'erano 3 cani non è andato a salutarli non è andato ad annusarli li ha visti e io gli ho detto sei legato non è il momento di rompere i maroni perché non posso sganciarti e farti correre in giro per il ristorante non se parla cioè non è un'opzione anche se ci fosse la possibilità di essere stati all'esterno non è fattibile quindi io su questo tipo di cose sono molto molto chiara le persone devono star distanti esattamente come i cani sconosciuti cioè non devo necessariamente andare d'accordo con tutto il mondo poi io che ho un caratteraccio ragazzi ogni tanto nelle risposte di tiktok mi sembra di essere su facebook vedo delle robe dei commenti soprattutto su alcuni dei miei video che hanno scatenato l'odio e l'astio il mio cane quando andiamo nei campi e troviamo permesena da cacalè è normale sì i cani mangiano le deiezioni scoprirà i suoi gusti di solito piace moltissimo quella di erbivoro molti non disdegnano quella di gatto ahimè alcuni non disdegnano quella di umano che secondo me è in assoluto il super top dello schifo fa parte di in realtà un comportamento naturale non deve diventare un problema quindi non deve essere ossessivo non tutte le cacche devono essere mangiate non tutte cioè non devo vivere nel terrore può capitare la mia vecchiettina adorava quella di cavallo quindi profiterol e il mio malin adorava quella di gatto anche se in realtà la malin non era poi sì se c'era non disdegnava ma non era così fissata la vecchiettina di più con quella di cavallo perdeva il senno per fortuna cavalli non è che ce ne siano proprio milioni in giro grazie mille per la risposta sul bracco figurati provaci ovviamente non so darti un consiglio più puntuale perché dovrei vedere il cane quindi poi magari lo vedo e dico oh mio dio un cane che non avrà mai un richiamo non è vero tutti i cani possono ottenere un richiamo consigli per far entrare da solo un cucciolo di sei mesi in macchina senza prenderlo in braccio dipende dalla macchina perché se è un SUV ragazzi dovete prenderli in braccio anche se sono enormi perché è troppo alta e non volete assolutamente che imparino a saltare da soli in modo un po' scomposto a questa età quindi se la macchina non è un SUV puoi provare a farlo salire non tanto dal baule che dal loro punto di vista è una sorta di salto nel vuoto come insegnargli a saltare da una finestra che non è una cosa molto brillante da fare da una portiera butti su qualche boccone accetta il fatto che vada dove si appoggiano i piedi e quindi non sul sedile e quando avrà preso le sue misure e vede che riesce a farlo piano piano vedrai che salirà da solo io con cani di una certa stazza o di una certa razza tipo Bovaro del Bernese ma anche Golden e Labrador consiglio spesso l'uso della passerella quella telescopica primo perché è più facile da insegnare proprio salire con quella poi perché si può chiudere in macchina su Amazon ne trovate a partire dai 35 euro in su e vanno bene anche quelle di plastica io le ho testate anche con cani corso di notevole peso e massa vanno benissimo qualche cliente molto bravo nel file da test se le hai fatte in casa sono ottime soluzioni però di solito la salita in macchina è proprio questione di prendere un paio di volte le misure e poi vanno su a meno che non stiano male in macchina e allora quello però è un altro paio di maniche è possibile contattarla per un aiuto più concreto tramite email? sì allora se sei di Monza in realtà potresti anche riuscire ad arrivare non sono l'istruttore più vicino c'è qualcuno di cui ho fiducia fra me e te quindi nel caso se vuoi contattami sul link in bio trovi il sito c'è un modulo compilalo e ti ricontatto io online non si può fare tutto e io rifiuto determinate richieste quello che io posso fare è dare consigli di gestione di addestramento di tecnica e di chiamiamola così remise in forma anche per cani che stanno per arrivare cosa devo fare in arrivo del cucciolo cosa posso fare quando arriva il cucciolo qual è il metodo migliore per gestire questo tipo di cosa però se ci sono dei problemi di tipo comportamentale devo vedere il cane dal vivo perché i video ogni tanto li chiedo perché su alcune specifiche cose un video può essere abbastanza può essere sufficiente però anche chi fa lezioni con me online adesso ho diverse persone che mi hanno contattato da TikTok che fanno corsi solo online perché ne ho a Trieste ne ho due a Udine una in Liguria quindi in Toscana cioè ho gente un po' sparsa per tutta Italia l'online è comodo per questo perché a zera le distanze ma a tutti loro ho cercato di trovare degli istruttori fisici che li seguissero dal vivo perché io posso darti un'indicazione loro fanno la parte pratica che dall'online è difficilissimo anche al campo ci ho provato ma io non ho il feedback il feedback diretto sul movimento che fa la persona e quindi non riesco a non è un lavoro di di qualità ecco però sì mi potete contattare ci sono un sacco di cose online che si possono che si possono fare infatti le informazioni le ho messe proprio perché è fattibile io ho lasciato il mio cane dieci giorni in una pensione sono preoccupatissima che posso odiarmi no quello che potresti fare che avresti potuto magari l'hai fatto abituarlo quindi portarlo in questo posto lasciarlo una mezz'oretta poi andare a riprenderlo poi lasciarlo un'altra giornata un paio d'ore e poi andare a riprenderlo in modo che il cane capisce che questo è un luogo di transizione e tu intanto vedi come il cane risponde perché quando i cani vi salutano in modo un po' troppo eccessivo e salutano la persona nuova della pensione in modo eccessivo non è sempre una risposta positiva quindi questi inserimenti danno modo a voi di vedere se il cane si trova bene e se le persone a cui state affidando il cane lavorano effettivamente bene anche se effettivamente riconoscere uno scarico da delle feste reali non è sempre non è sempre facile può essere un trauma per lui se non l'hai abituato un pochettino sì alcuni cani patiscono pesantemente la pensione anche la casalinga io ho avuto cani qui con me una sola volta in effetti però ho avuto un cane che che si vedeva che non era a proprio agio nonostante vivesse in casa con me non era una pensione non c'erano gabbie non c'era nulla era sempre a contatto con me mi conosceva già perché aveva fatto un percorso però non era infatti la proprietà mi chiedeva come sta e ti aspetta cosa vuoi che ti dica però trauma no cioè se sono persone serie e professionali no la velove 7490 sono pochi 90 grammi di croccette al giorno per un bassotto di 4 mesi non ne ho la più palida idea dovresti fare questa domanda a un veterinario nutrizionista che comunque ti chiederà che crocchette sono quanto pesa il cane e che tipo di attività fa il cane perché altrimenti senza minimo questi 3 parametri mancomandrà che è in grado di darti una risposta ieri mio cognato stava per tirare su due zampe il mio cane paura degli uomini stavo svenendo giuro cioè il tuo cane ha paura degli uomini e hai lasciato che il tuo cognato si avvicinasse a lui spero che tu abbia gambizzato il cognato io uso la lunghina in luoghi aperti ma non proprio protetti tipo campi in procinto di strada io uso solo la lunghina non possiedo più guinzagli da n più 1 anni non è quello che consiglio ai clienti perché è da noia la mia lunghina è di soli 3 metri quella da urbano quando vado in passeggiata metto quella da 5 metri però io la uso serenamente piuttosto che un flexi lunghina tutta la vita piuttosto che un guinzaglio corto lunghina tutta la vita però bisogna avere un minimo di manualità perché il cane deve essere sempre in sicurezza e noi non dobbiamo farci su come dei salami però sì lunghina approvata alla grande si può insegnare al cane ad ignorare gli altri cani quando si fa la passeggiata sì sì è quello che dicevo poco fa io l'ho fatto anche ieri sera al ristorante c'erano altri cani presenti il mio comando di non puoi andare a interagire coi cani è sei legato e quando io dico adobi sei legato adobi ma anche a tutti i cani dei clienti che ho sempre gestito e ai miei precedenti cani significa non puoi fare nulla per andare neanche ad annusare quel cane lì non mi interessa che sia l'amico della tua vita non è il momento non è il luogo non è il contesto adesso no come ho fatto ad insegnarlo con un'abitudine un'abitudine granitica cioè io da che ho un cucciolo con me se mi trovate anche al guinzaglio anche se ci conosciamo bene in realtà se ci conosciamo bene lo sapete che non voglio che avvicinate il vostro cane al mio quando il mio è legato e non mi metto in quella situazione se qualcuno con un cane legato si avvicina a me lo fermo anche in malo modo e a brutte parole cioè proprio io non non faccio interagire il mio cane quando è legato al guinzaglio quando è sciolto quando c'è il momento quando c'è il contesto lo spazio eh sì altrimenti c'è il comando sei legato e siccome sono stata veramente coerente non ho mai trasgredito a questa regola anche perché ragazzi io sono alto un metro e un puffo ho sempre avuto cani più grossi di me se gli avessi permesso di andare a salutare gli altri cani al guinzaglio cioè io avrei fatto scinautico tutta la vita dietro ai miei cani cioè finivo nel lago maggiore ma anche no e quindi questa è una cosa su cui io sono molto 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 categorica cioè non ho una sfumatura se sì e sì se no e no e se sei legato non vai da nessun cane quando io dico sei legato ovi come tutti gli altri cani guardano il cane dicono eh vabbè non posso venire sarà un'altra volta però i miei cani hanno sempre delle possibilità di interazione con cani amici hanno cani amici possibilità di giocare liberi di correre di fare tutte le interazioni sociali che gli servono quindi garantite un'interazione positiva positiva cioè buona e poi potete eventualmente insegnare al cane che esistono dei momenti in cui sì e no è così anche per noi ragazzi il mio incrocio di jack russell e chihuahua di tre anni quando deve mettere il collare si nasconde anche obby anche obby quando vede la pettorina fa la faccia dell'oh mio dio la pettorina poi è felicissimo di uscire c'è questa cosa del sto per morire e sta lì proprio con questa faccia da ok dai uccidimi collare pettorina qualunque cosa quella da nuoto qualunque cosa tu gli metti addosso tranne l'accappatoio l'accappatoio lo adora anzi lo metto fa tutto il figo vi farò un filmato se la tira proprio con l'accappatoio e gira che dice guardami giuditta numero 4 ed è l'unica cosa che riesco a mettergli proprio e lo vedo felice infatti userò sfrutterò l'ascendente accappatoio per fare un'associazione un pochettino migliore sulla sulla pettorina pazienza cerca di fargli fare delle associazioni positive in generale poi siccome capiscono che mettendo il collare piuttosto che la pettorina si esce in passeggiata in generale a loro piace con il tempo poi lo apprezzano ci sono però dei cani che l'adorano a prescindere perché il cane a volte struscia il muso sull'erba può essere per lasciare un proprio odore quindi una marcatura o per prendere degli odori quando leccano l'aria l'erba e fanno una specie di flaming quindi sbattono i denti molto velocemente perché molto probabilmente stanno raccogliendo informazioni di tipo ormonale con il con il vomero nasale che è un organo che hanno sul sul palato il mio cane mangia la cacca di altri cani già parlato della merda è una poi io carico le le dirette su su youtube abbiamo parlato un bel po' di cacca all'inizio carica questa la caricherò già oggi e riguarda l'inizio trovi la la risposta però spoiler è normale due amiche non ne vorrei chissà quante in più nuvola ne ha uno se riuscite a dare degli amici ai vostri cani è tanta roba ragazzi per usare la piscina con il cane il cloro può fargli male come a noi io faccio molta molta attenzione a dosare tutto quello che va messo per forza di cose in piscina quindi faccio i test anche più volte al giorno in modo da poter essere sempre al minimo di tutto quello che ci deve essere che però non va mai sotto la soglia perché altrimenti mi si sporca l'acqua lo sciacquo i cani con un pochettino di acqua dolce dopo esattamente come per me non ho mai avuto grandi problemi sui cani io sono allergica al cloro e nella mia piscina mi dà poco noia ma è all'aperto nelle piscine al chiuso io muoio cioè proprio sto veramente male perché il cloro è estremamente volatile però non è che si può fare altrimenti anche quelle che vanno ad ozono non cambia la storia e quelle che vanno a sale idem con patate quindi anzi quelle salate la mia avrebbe la possibilità di fare la clorinatura in automatico col sale ma l'acqua salata secondo me è peggio molti cani la bevono e poi stanno veramente veramente male come insegno al mio cocker di 8 anni a rimanere in una stanza con il cancelletto se sa stare fermo con un resta non ti serve il cancelletto se ti serve il cancelletto è perché probabilmente quello che tu vuoi ottenere è che lui impari a stare da solo con te in casa ed è una richiesta molto diversa dovresti lavorare un pochettino di più sul resta senza nessun tipo di ostacolo metti un tappetino e il tappetino lo trasformi in un posto super mega fantastico e lentamente tu vai fuori vista a quel punto non dovrebbe più servirti il cancelletto se ancora occorre il cancelletto dovresti avere meno difficoltà a farglielo accettare ma perché tu hai dato una competenza al cane stare da solo senza vederti quello è penso presumo sia il problema mi sapresti indirizzare verso qualcuno nelle marche allora scrivimi nelle marche dove perché forse qualcuno in zona conosco o comunque io conosco qualcuno che potrebbe conoscere qualcuno di cui magari ci si può un minimo fidare comunque ecco ragazzi a pancia cercate di capire che metodo usano le persone se non sono così troppo preoccupati di quello che è il benessere dell'animale in genere non lo sono nemmeno del benessere delle persone e questo si percepisce anche se non sapete nulla di cani posso stare ancora cinque minuti anche perché Hobie sta ancora dormendo il mio cane tre mesi ha paura degli abbai del cane al cancello tira e scappa che faccio io evito come la morte le guerre al cancello fino a che i cani non hanno minimo minimo otto mesi come ho risotto il mio problema caricando il mio cane in macchina non sto scherzando faccio circa 200 metri allontanandomi da tutte le villette con i cani che abbaiano e la mia passeggiata inizia da lì non ho trovato altre soluzioni in Italia perché le case sono circondate dai giardini e quindi avete sempre queste guerre da cancello e fino a che il cane non ha delle competenze sociali per poter affrontare una cosa di questo tipo io un'altra soluzione proprio pratica non l'ho tanto trovata perché indipendentemente da quella che è la caratteristica il carattere le modalità dei cani che vi abbaiano contro e di quelle del vostro un cane di tre mesi non ha le competenze per sostenere una cosa di questo tipo quindi io quando non c'è la competenza evito quando si può di mettermi in quella situazione perché faccio sempre anche l'esempio del triplo salto mortale all'indietro non c'è premio che mi potete dare per ottenerlo da me io ho bisogno di fare mille anni di addestramento training palestra per imparare una competenza di quel tipo arrivo a fare tutto il training allora avrò una chance di fare un salto all'indietro magari fatto male ma avrò una chance oggi il tuo cucciolo non ha nessuna chance e tu gli stai chiedendo di lanciarsi con un trampolino cioè non ce la può fare può solo sbagliare e le strategie che può mettere in atto potrebbero diventare in un domani un problema alcuni no alcuni non lo patiscono affatto alcuni sì cane diffidente verso gli estrani come ci si lavora 16 mesi dipende dipende io comunque tendo come ho appena spiegato per il cancello a partire dalla competenza del cane quindi guardo fino a dove riesce a reggere e quello è il mio punto zero se lui una persona non gli crea problemi a 20 metri di distanza prima di scendere a 15 devo fare in modo che il cane resti a 20 metri per un bel po' impari a rilassarsi e poi riduco la distanza e poi riduco la distanza e poi riduco la distanza ma è il cane cioè è chi impara che vi impone la velocità di in cui voi alzate la l'asticella non viceversa perché altrimenti state chiedendo a me il triple mortale all'indietro che potete anche chiedermelo e posso anche provarci ma fallimento garantito ciao sono disperata il mio cane quando passo vicino ad altre persone anche se loro non lo calcolano lui aggredisce lo stesso per i cani maschi va visto spesso e volentieri una reazione indotta indotta dal fatto che quando era piccolo l'avete tutelato poco che avete sottovalutato magari alcuni segnali o dal fatto che lui dà dei segnali ancora oggi che non vengono gestiti bene quella è gestione se il problema non è risolvibile devi imparare tu una gestione differente si potrebbe potrei darti qualche consiglio anche online ma il consiglio è trova qualcuno che ti segua dal vivo perché si fa molto 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 più in fretta che lavori si possono fare con un cane di 5 mesi mai andato da un istruttore tutti tutti cioè assolutamente tutti quindi dai giochi di fiuto a come si imparava a mangiare a camminare dal guinzaglio senza guinzaglio giochi di riconoscimento oggetto ragazzi nessuno io vi ho fatto una domanda un nome per lui e non me l'avete proprio nessuno mi ha proposto un nome uffa voi io rispondo sempre alle vostre domande voi non rispondete alle mie una volta che il cane a me ci serve fare nuove conoscenze ma perché no sì non è il mio obiettivo cioè i miei cani nonostante io abbia accesso a un gran numero di cani conoscevano da adulte 10-12 cani e li vedevano non tutti i giorni ovviamente ma così a gruppi di 2-3 4-5 questo avendo più cani mi permetteva di avere sempre delle situazioni di interazione sociale però passavano anche dei giorni in cui non vedevano nessuno io non è che vedo i miei amici tutti i giorni il mio Jack Russell non va d'accordo col mio gatto si conoscono da un mese come posso fare lo morde allora tutela il gatto e ferma il cane questa è una regola è un buon consiglio non fa danni però bisognerebbe capire quanto ha il gatto e quanto ha il Jack Russell non dovrebbe andare a predare il gatto di casa cioè questo non glielo consentirei proprio a livello relazionale tu non ti puoi permettere di aggredire un membro della famiglia ho un cagnolino di tre mesi che tipo di guinzaglio uso il più lungo possibile più è lungo meno imparerà a tirare e più farà esplorazione senza trainarti in giro di certo ti darà noia perché farà la pallina da ping pong un po' di qua e un po' di là però è quello che devono in realtà fare e non è vero che se imparano a camminare così poi continuano a farlo cioè non ha nessun senso e chi dice queste cose mi domando se mai abbia lavorato con un cane o osservato un cane i cuccioli esplorano come se non esistesse un domani perché tutto quello che vedono è tutto nuovo dopo un po' l'adulto smette di fare questo tipo di percorso a zig zag perché quel palo l'ha già usato un miliardo di volte quella foglia anche sa che quel rumore corrisponde a x y e z è come se noi ci stupissimo tutti i giorni quando ci vediamo riflessi in uno specchio cioè alla seconda abbiamo capito che siamo noi ecco quindi più è lungo il guinzaglio meglio è come far passare la paura di tuffarsi gli piace l'acqua e fare il bagno va visto perché se nuota bene cosa che dubito se ha paura di tuffarsi perché se non si tuffano è perché non sanno compensare ho visto una quantità di filmati di istruttori che fanno fare i tuffi ai cani e i cani nuotano a merda io sul nuoto sono tecnicamente molto molto rigida perché il nuoto fatto male fa del male a noi e anche ai cani e ve lo dice una che ha una spalla mezza rotta perché purtroppo nuoto male e ho la bracciata sinistra che non va bene lo so ci sto lavorando però se il cane ha paura di tuffarsi è probabile che abbia una pessima tecnica di nuoto perché se ama l'acqua il tuffo viene non di conseguenza però non è una roba parti magari da qualcosa di molto basso parti da una rampa che digrada in acqua e non da un salto alto bau ce l'ho già un bau non va bene perché poi ho 50 oggetti quindi ho già 50 nomi bambino o natalino allora bambino mi sa che ho già qualcosa che suona così devo andare a guardare l'elenco natalino però me lo segno se niente se non ho troppe parole troppo simili natalino ci piace natalino natalino grazie grazie claudia perché sembra abbia la barba di bambino sì in effetti sembra un po' un babbo natalino allora rispondo oh mamma mia ragazzi siete in tantissime ho fatto un sacco di gigio è grigio gigio molto carino mi segno anche gigio anche perché ovviamente c'erano in offerta in offerta 3 euro e 20 i pupazzi alla coppia secondo voi ne ho comprato uno li ho comprati tutti quindi ne ho 5 6 a cui dare il nome c'era una signora che mi guardava come dire ma questa cosa fa li prende tutti sì li ho presi tutti però gigio è carino anche peppino mi segna anche quello gigio peppino grazie ragazzi allora devo il mio cuccio il primo giorno al mare subito si è tuffato va matto per l'acqua lo fanno in tanti e non è detto che siano bravi a nuotare però già il fatto che si sia lanciato è un'ottima cosa ragazzi scappo vado adesso Obi dovrà venire svegliato perché tocca lavorare pure lui vi saluto caricherò anche questa live su youtube cerco di rispondere sempre a tutti non sono rapidissima soprattutto adesso d'estate nel fare i filmati perché richiedono comunque un po' di tempo io quando lavoro lavoro quindi difficilmente vedrete miei clienti su ttoc un po' per la legge sulla privacy un po' perché se lavoro lavoro non mi metto a fare i ttoc comunque se mi iscrivete mi contattate io cerco sempre di rispondervi vi saluto bau bau alla prossima e ci vediamo ciao grazie per i nomi grazie grazie a tutti